ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco totmon a cosa serve totmona un parafarmaco appartenente alla categoria degli spazzolini da denti scovolini interdentali e accessori è commercializzato in italia dall'azienda e liaga srl informazioni commerciali titolare e liaga srl concessionario e liaga srl categoria di appartenenza spazzolini da denti scovolini interdentali e accessori confezioni totmon spazzolino sito la media indicazioni lo spazzolino semplice economico efficace sviluppato dai professionisti dell'igiene dentale migliora la salute della tua bocca descrizione e caratteristiche igiene orale più semplice più efficace il brevetto totmona marchio registrato consiste nell'innovativa curva del collo che diversamente dalla forma degli spazzolini in commercio allontana il piano delle setole dal piano del manico dello spazzolino nella direzione delle setole mantenendo i due piani paralleli totmona marchio registrato mai prima d'ora uno spazzolino da denti aveva presentato questa particolare curvatura che consente di raggiungere in modo cosa efficace tutte le superfici da pulire per comprendere la semplicità e la portata dell'innovazione contenuta in totmona marchio registrato occorre considerare come gli spazzolini da denti svolgano la loro funzione dentro una cavità la testina deve quindi affrontare un certo grado di difficoltà superare il margine inciso alle dei denti per raggiungere e pulire efficacemente anche le superfici interne che a nascoste invece sebbene gli spazzolini tradizionali privi di inclinazioni si rivelino già come poco ergonomici per una cavità da anni ha presente sul mercato una serie di prodotti con una forma ricurva questo tipo di curva euro scontraria euro s a quella di totmona marchio registrato in realtà sottrae e porta in negativo l'ergonomia dell'oggetto risultando meno ideale nei confronti della cavità orale lo spazzolino da denti che fa la differenza la superficie delle setole di totmona marchio registrato si posiziona parallelamente al solco gengivale per una corretta spazzolata garantendo il pieno contatto tra setole denti e gengibi anche all'interno del cavo orale inoltre durante i movimenti della testina tecnica di bass sia un'immediata percezione di efficacia dovuta ad una rotazione più ampia e piacile con minimi movimenti di polso risultato maggiore detersione minore sforzo tecnologia totmona marchio registrato massimo contatto tra setole e denti l'intera superficie delle setole raggiunge ogni punto del cavo orale maggior potenziale igienico permette una spazzolata più ampia e piacile con la solita naturalezza impugnatura ergonomica facile studiata per una presa sicura scompare tra le mani collo flessibile dona benessere alle gengive attraverso un delicato massaggio testina anatomica arriva nelle zone che ha nascoste aumenta l'efficacia della detersione la forma piacorretta per la piacorretta igiene orale totmona marchio registrato ha il profilo ideale per pulire facilmente tutte le superfici di denti e gengive la sua curva intelligente consente un igiene orale piagevole ed efficiente se eseguita con la tecnica di bass dalla gengiva verso il dente l'unica raccomandata su scala mondiale da igienisti dentali e odontoiatri il nuovo spazzolino da denti brevettato che aumenta il potenziale igienico della spazzolata totmona marchio registrato costituisce un'assoluta innovazione per il mercato internazionale sul quale si colloca con un posizionamento esclusivo e distintivo usp i vantaggi di una semplice curva rendono totmona marchio registrato più efficiente senza per questo dover essere più costoso e senza trascurare l'appeal richiesto dal design di mercato fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato